La mamma è un paradiso. Non può essere andata via così senza neanche salutarmi. Non respiro. Mi fa male il cuore. Allora prende la cassa, va bene? Vediamo se c'è. Fai bei sogni. Si calmi. Ha un attacco di panico. E lei che ne sa? Sono un medico. Si sta male di nuovo. Telefoni a un amico. Una persona che le avvicina. Può essere lei questa persona? 12. 12. Gli altri erano importanti per lei. Forza. Ma non ti piace vivere per i colgiamenti? Dilla anche tu una stronzata ogni tanto, no? Invece niente. Com'era bella. Così piena di gioia. Non sai quanto l'ha data. Come ha morto a mia madre. Mamma, mamma dove sei? Mamma, mamma dove sei? Ma come vi siete permessi? Lasciala andare. Com'era. Ci vediamo.... Grazie a tutti.